Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilan News. Siete alla ricerca di un filato che accomuni il comfort, la sostenibilità, ma di cui sia facile prendersi cura? Abbiamo quello che fa per voi. Si tratta del Mistolana Edit. Scopriamolo subito! Ecco qui il nostro Edit in tutto il suo splendore. Si tratta di un Mistolana composto al 25% da lana merinos e al 75% da acrilico top quality. Il peso del gomitolo è di 100 grammi per una lunghezza di 300 metri all'incirca. Per questo filato consigliamo i ferri dal numero 4 al 6 e gli uncinetti dal 3 al 5. Passiamo ora ai consigli per la manutenzione. Consigliamo di lavare i capi creati con l'Edit ad una temperatura che non superi i 40 gradi. È possibile però utilizzare l'asciugatrice con un programma per delicati. Tuttavia per i primi capi, come sempre, suggeriamo sempre un lavaggio a mano che permetta così l'esplosione della fibra. È sconsigliato il candeggio ma è possibile utilizzare tutti i detergenti neutri, eccezione fatta per il tetrachloro etilene e inoltre sconsigliato lo stiraggio. Come sempre Tessiland è attento alla sostenibilità e alla produzione che c'è dietro ai propri filati. L'Edit con il suo certificato Ecotex Emusing Free ci permette di fare anche una scelta che rispetta l'ambiente e il benessere dell'animale. Le colorazioni disponibili? Scopriamole tutte insieme! Grazie a tutti! Grazie all'incontro tra la lana Merinos e l'acrilico, top quality, che si racchiudono in una fibra ritorta, il comfort sarà garantito, ma anche la durabilità nel tempo. Grazie alla sua composizione potrete realizzare i più svariati progetti, a partire dalle copertine, gli accessori, i cardigan, pullover, insomma tutti quelli che sono i must have della stagione. E poi cosa dire della manutenzione? È un filato che si adatta benissimo ai ritmi frenetici della vita di tutti i giorni. Potrete valutarlo anche per creare delle creazioni per i più piccoli, come ad esempio delle copertine da culla o da lettino, ma anche dei piccoli cardigan. Il risultato sarà un capo dai colori vivaci, confortevole e dall'aspetto lussuoso. Vi ricordiamo come sempre di condividere con noi tutte quelle che saranno le vostre creazioni. Vi ricordo infatti dei nostri social, la pagina Facebook Meglio di Maglia, Instagram, TikTok, Pinterest e non perdete ogni settimana il nostro appuntamento sul nostro blog. Al prossimo Tessila News!